La corsa come candidato alla Casa Bianca starebbe dando alla testa a Kanye West. Il cantante e idolo delle reti sociali e sposato alla web star e imprenditrice Kim Kardashian mette ormai in scena performance elettorali sempre più imbarazzanti e su Twitter ha cinguettato che starebbe cercando di divorziare da anni dalla moglie con cui ha quattro figli ma che la cosa gli verrebbe impedita dall'intero clan Kardashian. Il messaggio è poi stato cancellato ma la frittata era fatta. La moglie Kim ha risposto via reti sociali con un lungo post. Come molti di voi sanno, Kanye soffre di un disturbo bipolare. Tutti coloro che ne soffrono o amano una persona che ne soffre sanno quanto sia incredibilmente complicato e doloroso. Chi è vicino a Kanye conosce quanto cuore abbia e sa che a volte le sue parole non coincidono con le sue idee. Un messaggio a difesa del marito ma anche una specie di dichiarazione di morte per il candidato politico che si è detto vicino a Donald Trump. Ormai Kanye West è visto come mentalmente instabile.